Lega il trapassato. Perché non devo pensare ai miei cari trapassati con dolore? Commento. Perché il pensiero carico di dolore lega il trapassato al piano fisico, danneggiandolo evolutivamente. Crea un filtro molto opaco fra il trapassato e chi lo pensa con dolore, che impedisce il contatto telepatico tra l'entità e l'incarnato.